Zeo, sei incazzato che c'erano i cani prima? E niente, la mattina siamo a spasso, bella giornata del sole, oggi che è mercoledì, oggi è mercoledì. Stiamo a spasso perché? Perché devo prendere un po' di roba elettronica, tra cui due pulsanti. Per System A, mamma mia, mi ammazza questi fiori, il periodo del polline è anche così. Dicevo, stiamo andando al negozio di elettronica perché ho un System A, il K2 e lo Spirit Box che mi ha fatto pelletta. Perché praticamente i tasti da accensione e spegnimento sono troppo lunghi. Bisogna metterci un tasto piatto in modo che non dà fastidio dentro le saccocce e che magari non si accende dentro la borsa. dentro perché mi è capitato che due o tre volte mi è acceso a picazzi suacca. Allora, provando a cambiare il pulsante. Ciao Capullo! Provando a cambiare il pulsante, metterciolo un po' più basso, magari se si lavora meglio. oi ciao come sta matteo va bene sto a posto è un pezzo che non ci vediamo ho passato davanti casa di matteo c'era il padre a proposito matteo te saluto e niente la terra è molto la montata tutto su poi tutto giù vabbè la salita è la guardi non c'è il cane niente non gliene frega niente a lui cosa gnagneri cos'hai visto è un carello non è un cane quello niente mi pare che qui la donna sta a portare a spasso un ca invece è in cariolo per la spesa nella vita c'è chi sta bene c'è chi sta male c'è chi sta bebe e c'è chi sta peggio adesso devo fare un po' di saluti alla gente però aspetto ad arrivare in garage perché perché si quando torna da dietro vediamo tanto che volevo dire questo a costruì un ciaffetto niente male che vedrete nel prossimo video dopo di questo quindi diciamo che questo è il preludio di quello che si andrà a costruire cagnoletti che baglia luca gnagnera gnagneri non lo controlla vedete scruta da lassù da lassù da lassù da lassù no adesso l'ho visto ah è una statua quella c'è c'è un calluppo statua vero è anche vero beh perfetto questi che c'è sta fa qui ci hanno messo i ciocchi di cimento questo è il malaterà che viene giù ferma la ferma io un po' si vedrà che vi devo dire ah vi devo dire che stasettimana ho fatto pochi video perché c'è stato un po' da lavorare quindi meglio qui c'è e adesso vedremo fine settimana che c'è moda a fare con Pasquale Federico per Italia Angostante poi che dovremo fare dovremo andare a fare forse forse dei sovralluoghi quindi stasettimana sarà bella piena dovrei ricevere anche una chiamata per fare un video a parte però cioè no veramente non lo faccio io il video però non lo so aspettiamo vediamo guarda qua tutto è chiuso questo è perché si è asfaltato? sta ne finita asfaltata? no guarda che è un pezzo che hanno asfaltato forse perché è venuta giù la terra non ci capisci tutto in fiore vediamo un periodo qui c'è allora entro 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 nel negozio compro quello che devo comprare e ci vediamo dopo allora siamo usciti dal negozio abbiamo preso poca roba effettivamente però qua sta in botto quando mi ha detto 40 euro mi ha fatto più in corpo bravo vabbè tanto se serve serve per valtre ciao buco musa pesce arnusa e pesce buongiorno ah che hanno tagliato gli ulivi che miseria ci hanno fatto? ha fatto bene ha dato una burrita dicevo 40 euro per due pezzi di elettronica mamma mia è una roba assurda però tocca a fall no tocca è un pezzo che ce l'avevo in te la testa di costruire sta cosa vabbè la costruiamo quindi questo video è un'intro un'introduzione alle cose che faremo sia qui da gli angostanti sia da per me per le novità ok e niente proseguiamo andiamo verso casa ma che carina con la 500 rosa beh per carità rosa non tanto però è tenuta bene beh quasi bene guarda che bella ha piantata i mandarini giapponesi che figata guarda porca miseria quanti ce n'è una roba assurda mamma mia il polline è bello è bello ma a me mi ammazza capito capito allora e vabbè vi saluto e anche zio vi saluto zio saluto bravo e niente ci vediamo al prossimo video che sarà molto interessante ciao ciao ciao